Ok ragazzi, direi che possiamo andare Grazie mille Rex 055 del Prime e Suorospin, grazie al Prime anche a te, benvenuti ragazzi, benvenuti Signori, gioca Ho mai aperto, prima volta, comprato al volo a 20 euro Cioè, capito, no a due spicci, no a due centesimi, 20 euro Quindi, Sergio Simulator, costa, costa Sergio Simulator Non ho ancora visto dove posso ottenere la cam, secondo me dovevo metterla Ho guardato al volo tipo gameplay su YouTube senza facecam per vedere com'è l'interfaccia 20 euro costa ragazzi, 20 euro Ho guardato nei siti di Kiji, sempre 20 euro, 19,99 Quindi è meglio se vi abbonate, capito, per questo Sergio Simulator Purtroppo il gioco non l'ho rubato, potevo partire da lì effettivamente Amici, io vi saluto, vi ringrazio per essere rimasti in live Davvero grazie a tutti, grazie di sub Ci becchiamo domani, mi piacerebbe tanto riportare Thief Simulator Perché, ragazzi, il gioco di oggi pomeriggio è stato devastante Se non l'avete visto, guardatevi la live di oggi pomeriggio Vi giuro, è stato, è stato, non lo so È stato troppo felice di scoprire questo gioco qua Di Thief Simulator Bello, bello, bello Mi ha divertito troppo Ci becchiamo domani che lo riportiamo sicuro Troppo voglio giocarci Sergio Simulator intendevo, Sergio Simulator Grazie mille a tutti Buonanotte Ciao belli A domani Una festa qua davanti Una manifestazione Il Gay Pride Cos'è tutta sta gente che c'è qua davanti in casa l'una di notte Che cazzo è? Che cazzo è? Ma quanta gente c'è qua fuori? Boh Vabbè Peccato, quel quadro lo volevo, raga Era bello Vabbè, dai Mamma mia Ormai sull'altro Ma minchia, raga Qua al cardiopalma l'abbiamo fatta qua Degno dei migliori film di Tom Cruise Porca puttana, ragazzi Vabbè Ah, sta cercando la mia auto Ma quindi? Ma che cazzo Ehm Vabbè, siamo dove eravamo prima, ok Poco male Vabbè Vabbè Eh, però è il fatto che hanno trovato l'auto lì Forse è quello il problema Ho un'idea Ho un'idea, ragazzi Un botto di livello Siamo al 16 Porca puttana Quanti livelli abbiamo fatto Abbiamo tre punti da spendere Direi questo per adesso Furto d'auto Permette di muovere le parti dell'auto E rubare senza Auto senza allarme Mamma mia, ragazzi E però Servono gli strumenti, giustamente Non so se c'ho i soldi Eh no, sì Ciao Il gremaldello elettrico mi serve Eh ragazzi Io lo farei subito Ma tanto se mi do a comprare questo Dopo non c'ho i soldi Tanto vale che mi metto O qualcos'altro No, non posso rubare le auto, ragazzi Posso rubare Posso smontare Di componenti delle auto Mamma mia Ragazzi, io Non voglio essere captivo Ma non sto capendo un cazzo Onestamente Gesù Cristo, ragazzi No, non ci Ma dai Ma dio madonna Ho capito che cazzo devi fare Oh Gesù Ragazzi Io non so che dire Vabbè o almeno Almeno c'è un po' di sfida Non c'è molto a lamentarsi GG ragazzi Perché si gioca intelligenza E per fortuna Io c'ho Un quoziente intellettivo Abbastanza alto Non così per dire È vero Non per vantarmi Bene Si vanno a vendere i cellulari Va bene Boh, è stato Molto soddisfacente Ragazzi I guanti Vogliamo prendere finalmente I famosi guanti I guanti Arrampiche Ma sì Dai a sto punto Ormai abbiamo tutto Ci mancano soltanto i guanti Ecco fatto Solo i guanti ci mancano Dai Ma la macchina Quindi sarà La junkie art Adesso Mie 200 art Di guanti Vabbè Che poi Il simulatorio Se sono tutti fatti così Non so quanto simulino La realtà Onestamente Oh ragazzi Hyptrain Mi raccomando E facciamo salire Sto hypetrain Che cazzo Destiny Grazie di Beats Buonasera Bello Grazie il supporto Hai contribuito All'hyptrain Ragazzi Abbonatevi Donate i cheers E facciamo esplodere Questo hypetrain Magari non vicino alla stazione No perché Sì no Sono di Bologna Quindi Sono un po' sensibile A queste cose Lontani dalle stazioni Ma facciamo esplodere Questo hypetrain Eccoci Come al solito Minchio le cicale Ovunque Allora Abbiamo visto Abbiamo visto Abbiamo scoperto Anzi Che possiamo comprare Questo furgone A 35.000 dollari È una battuta Perché non sono Non sono sensibile Conosci for lì Sì Cioè conosco Tutte le città Delle mille armagne Vabbè Non parliamo di quello Allora Lo compriamo Il furgone Per poi Sì è sulla switch Non oso immaginare Come possa andare Ragazzi Non fatelo Se volete bene Non prendetelo Per la switch Cioè Guardate come Cazzo gira Col mio setup E provate ad immaginare Come possa girare Sulla switch Io piango Se penso Come possa essere Sulla switch Quando Riesco Quando qua Il frame rate Gira da 30 A 70 Con un Ryzen 9 Una 1080 ti Non oso immaginare Sulla switch Come cazzo sia Sto gioco Non oso immaginarlo Vabbè Fanfieri Che provalo Se non sbaglio Sulla switch Era super scontato Non costava Un tipo 99 centesimo O 1,99 Se proprio Preparlo Cioè Farà schifo anche lì Non ci sarà Troppa differenza Però farà Ancora più schifo Indubbiamente Allora Ciao Ciao Grazie a tutti.